Buonasera a tutti, allora praticamente me lo dico venerdì sono stata a casa per il fatto che era un'altra di quelle giornate che volevo uscire ma non volevo nemmeno credo vabbè non mi ricordo adesso però di certo sono stata a casa e quindi niente a parte quello nulla mi sono annoiata a Marta anche perché non avevo niente da fare e a parte quello nulla e poi tra l'altro non ho dormito granché nemmeno quella volta per vedere il fatto che ormai non sono più abituata a questa situazione anche per vedere il fatto che... ah no ieri sera ho visto nonna in videochiamata e sta meglio per chi se lo chiede sta bene? Ciao eccomi ciao e sta mangiando adesso eh credo che li abbia appena fatti vabbè scusatemi stavo parlando con mamma e niente praticamente a parte che nonna sta bene nulla stanchi morti e io vi auguro una buona serata lasciate like iscrivetevi al canale se potete sbagliare la voce mi fate un favore e cercherò di recuperare promesso almeno cercherò ciao